Grazie a tutti. A questa iniziativa e allo stimolo che ho ricevuto dalla dottoressa Anna Benedetti e non posso far finta di conoscere perché non è bello, però ho letto un po' di pagine di qua e di là e alcune cose mi hanno colpito. La prima frase del libro, in certi giorni la malattia mangia i sentimenti. Io oggi ho tenuto un incontro con i familiari dei malati di Alzheimer, la malattia che fa perdere la memoria, che frequenta un centro diurno a Sesto Fiorentino. Abbiamo fatto un incontro, dal solito, e una di queste persone parlando dell'importanza di avere trovato questo servizio, un centro diurno dove gli operatori sanno come entrare in relazione con i malati, e a un certo punto ha detto che se non ci fosse stato questo centro, io, 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 non ha finito la frase e gli sono comparsi alcune lacrime. E questo momento di commozione l'ha condiviso con tutti gli altri. L'Aima, diciamo, in tanti anni, occupandosi delle, diciamo, di percussioni sociali di questa malattia, ha partecipato a tante iniziative, organizzato tante iniziative, insomma ha capito che si può parlare di questo problema in tanti modi diversi. Un modo è come un bel convegno medico-scientifico. Un altro modo che, devo dire, abbiamo forse scoperto di tardi, però meglio tardi che mai, è attraverso l'espressione artistica. L'espressione artistica ha tutte le forme d'arte, il cinema, ci sono tanti film molto belli che parlano di questo problema, la fotografia artistica, non la fotografia che documenta una realtà, la poesia, la letteratura, il fumetto. C'è un fumetto molto bello, scritto da uno spagnolo, che parla della storia di malattia di una persona. Io garantisco che è molto più, diciamo, predio di contenuti di un libro di 200 pagine che parla della morte. Perché la comunicazione artistica, attraverso l'espressione artistica, è così importante? Perché tocca le emozioni, è una comunicazione che arriva alle emozioni delle persone. E in questo senso io ringrazio l'autrice per aver fatto questo lavoro. Perché, direttamente o indirettamente, però dà un grande contributo a quella che noi chiamiamo la sensibilizzazione delle persone, dei cittadini, della comunità a questa problematica. Una problematica nella quale contano i servizi, i medici, le medicine, l'assistenza, tante cose. Però è una problematica che si può incontrare, rivivere e capire soltanto attraverso i vissuti delle persone. Io ho sentito tante storie di vita, non di malattia, di vita, nelle quali c'è anche una malattia, nelle quali viene fuori la capacità o incapacità di relazione, viene fuori la sofferenza emotiva, viene fuori la sfiducia, viene fuori la grande determinazione. E allora io ho pensato questo, e cioè che ognuno di noi nella vita sviluppa delle abilità di relazioni che sono sufficienti per andare a scuola, per costruire relazioni, avere amici, mettere su una famiglia, lavorare, etc. Però ci sono delle vicende, come questa, della malattia di Alzheimer, vissuta nella famiglia, che è nel cerchio delle amicizie, per le quali questa relazione non basta più, questa abilità di relazione non basta più. E quindi la prossimità con la malattia pone l'esigenza di rivedere se stessi, le proprie capacità, le proprie debolezze e acquistare delle nuove capacità di relazione. Allora io questo libro lo leggerò con grande attenzione, perché mostra un percorso di questo tipo, cioè come è andato avanti e come è stato rivisto in seguito alla presenza di questa malattia e trapporto su una figlia e una mamma. Al di fuori dagli stereotipi, perché questa è una cosa importante. Tante volte nei libri, io leggo i libri che parlano della malattia, i libri nei quali tutti si travestono da psicologi, assistenti sociali, tutti vogliono fare il bene degli altri e poi in un paragrafo si legge il caro familiare, quando si parla del malato. Ma non è detto che siamo così, perché ci sono figlie che sono arrivate a prendersi cura della mamma, dopo aver vissuto tutta la giovinezza, cercando con un conflitto con la mamma di costruire la propria autonomia. E poi nella malattia si vedono costretti o comunque ritornano, ricostruiscono questo rapporto e questa volta il rapporto è rovesciato, perché la figlia fa da mamma e la mamma è la sua bambina. Ci sono mogli che si prendono cura di un marito che non le ha mai rispettate, non le ha mai rispettate la vita, eppure con la malattia riscoprono questo ruolo. E c'è anche una storia di una signora che in un incontro mi dice «Dottor Matera, io nella malattia ho incontrato la mia mamma». Quindi è riuscita a ritrovare una relazione, a portarla al compimento, a scioglierla, come abbiamo sentito poco fa, con la malattia. Questo ci insegna che non tutto si esaurisce nei libri di medicina, nei trattati, eccetera, ma in realtà quando ci si occupa di una storia come questa emerge la complessità della persona. E questo io credo, ho intuito che c'è nel libro della signora Donatella e credo, sono sicuro che lo troverò leggendo, proprio questa complessità che è un po' un richiamo per tutti noi a essere come siamo, a cercare di costruire relazioni e vivere in maniera dinamica con i conflitti, con l'amore, con la tenerezza, con la cura, nel miglior modo possibile. Grazie. Grazie.